Ma sono d'accordo con te, ti voglio leggere una cosa che ho scritto, che è contenuta all'interno della ragazza di Terzin, il mio quarto romanzo, è introvabile, lo trovate solo sul sito dell'editore homoscrivens.it, homo con l'h, homoscrivens.it e all'interno di questa storia, mi dicono molto appassionante, c'è questo, ah la leggerezza, che grande, straordinaria e irresistibile tentazione, l'ho vissuta tutta la vita come la più deliziosa delle perversioni, tu non hai potuto ma la tua terra non ha colpe, tuo padre forse sì, ma ha senso oggi dopo tanti anni fustigare il suo ricordo, cerca di superare tutto questo e ricongiungiti con la tua memoria storica, perché chi non ha passato non può avere futuro rivendica il tuo sacrosanto diritto ad essere felice, cammina a testa alta, non vergognarti di quello che hai fatto, non vergognarti di non esserti opposta abbastanza, non avere paura del prossimo ma non fidarti mai e soprattutto ricordati che tanto più il gioco è facile da vincere, tanto più alto sarà il prezzo da pagare apri tutte le porte con umiltà e fermezza, vedrai che non si opporranno, ricordatelo sempre, quando il mare sarà in tempesta e tu sarai con le spalle al muro in attesa che l'onda anomala ti sommerga, l'ironia ti salverà la vita La ragazza di Terezin, Homo Scrivens, un romanzo a cui sono molto affezionato, introvabile perché lo avete divorato e grazie a tutti per averlo letto, lo trovate solo sul sito di homoscrivens.it, grazie